50 scatti è un piccolo viaggio nelle nostre terre ricche di storia e di cultura e la mostra fotografica di Teresa Marano ospitata a Villarendano un evento patrocinato anche dal comune di Cosenza sono fotografie che ho scattato tanti anni fa poi mi sono fermata, non ne ho fatte più perché mi sono sentita appagata nasce forse dall'infanzia l'amore per i nostri borghi, per i nostri luoghi sono cresciuto in uno di questi luoghi non è una passione, è proprio un modo di vivere una vita dei nostri borghi che comunque è stata sempre complessa ma nello stesso tempo semplice mi ha dato moltissimo, mi ha dato una vitalità è un amore per la vita, per la natura io grazie a uno di questi luoghi dove io sono nata e cresciuta posso dire di aver avuto un'infanzia felice, felicissima la mostra fotografica di Teresa Marano è visitabile fino a sabato il costo del biglietto comprende la visita al museo multimediale Consenzi e Itinera e parte del ricavato sarà devoluto all'associazione animalista Aic Ollus ad Ottami in Calabria domenica 14 ottobre invece a Villarendano in occasione della giornata nazionale delle famiglie al museo il museo multimediale Consenzi e Itinera offrirà alle famiglie visite educative, giochi a tema e tante altre attività tra cui l'iniziativa Piccolo ma Prezioso alle ore 20